Sindaco, diversi casi nelle ultime settimane a Trivento di furti o tentativi di furti, se non è allarme sociale forse manca poco, si è creata una certa psicosi tra i cittadini ma la vostra amministrazione ci tiene a precisare che è al lavoro con le istituzioni, soprattutto con l'arma dei carabinieri. Lo stesso capitano diceva di invitare tutti a collaborare qualora ci fossero delle situazioni, ma naturalmente a fare situazioni di farsi giustizia da sé perché potrebbero poi intercorrere altre problematiche anche legali e quant'altro. Io ho chiesto in modo fermo che l'organico della caserma venga aumentato, noi abbiamo anche una bellissima caserma, una caserma nuova con tutti i comfort, ahimè con poco organico ma è legato a problematiche non soltanto di Trivento ma a livello generale. Già da marzo però, devo ammettere che in collaborazione proprio con la disponibilità e ringrazio il capitano di Boiano, naturalmente già sono venuti a volte affiancamenti su Trivento. Non è un fatto soltanto per l'emergenza ma abbiamo chiesto un qualcosa di stabile e duraturo che riguardi naturalmente questa situazione dei furti ma che può riguardare il problema, tra virgolette, consentitemi, Movida, che può essere quello dei fine settimana, che riguarda per esempio ancora le regole da rispettare anti-Covid per esempio. Per fare i fatti, per ottenere i risultati bisogna agire in una certa maniera anche, consentitemi di dire virgolettato, istituzionalmente. Tra l'altro è arrivata anche un'interpellanza che se poi vogliamo fare demagogia, se vogliamo fare allarmismo allora ne parliamo di questa interpellanza. Ma se poi quando nell'interpellanza addirittura si ipotizza l'utilizzo di servizi privati di protezione e di vigilanza allora io dico solo una cosa e lo dico fermamente perché sono di questo parere e sentendo questo anche le forze dell'ordine carabinieri in questo caso hanno capito appunto noi come vogliamo agire. Noi siamo fermamente fiduciosi e convinti in ciò che possono fare le forze dell'ordine dello Stato, in questo caso i carabinieri e anche semmai la polizia di Stato, ma mai credo che non ci sia bisogno di arrivare a situazioni diverse.